C'è il colpo di testa, ma che gol ha fatto! C'è l'argo, l'ha battuto benissimo, colpo di testa preciso, ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace, la traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il cofiero non ha potuto fare niente. Quarto gol messo da lui a segno in questa competizione. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Il primo gol messo a segno sembra averli davvero motivati Fabio. C'è un tackle duro, un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Si libera la galle. Qui deve tirare. E ecco il gol, ecco il gol. Ora doppio vantaggio per lui. Deveva solo appoggiarlo in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto, lui è stato bravissimo ad approfittarlo. Grazie. 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 2-0 dunque. Grazie. Grazie. Grazie.